Lo striscione dalla scritta più che eloquente per il presidio di pochi attivisti e dei Cobas, sostenuto anche dalla presenza di alcuni docenti sotto l'ufficio scolastico regionale di Via Forte Marghera, nel pomeriggio a Mestre. Siamo per una didattica in presenza. Perché una didattica in presenza? Non se ne può pure una didattica a distanza. I docenti ce ne sono qui oggi, tanti docenti si lamentano. Una didattica a distanza non è possibile. Cioè ci vuole, bisogna socializzare con i ragazzi, bisogna intorno a tenerli in classe, anche fra di loro devono socializzare. Il presidio di oggi fa seguito alla manifestazione degli studenti tenutasi sempre a Mestre venerdì scorso, con l'occupazione simbolica presso l'ex CUP dell'Umberto I e anticipa quella prevista per venerdì prossimo, 29 gennaio, giornata di mobilitazione e sciopero nazionale, con il presidio previsto dalle 11.30 alla Protezione Civile del Veneto a Marghera. Molteplici le richieste, tra cui il tracciamento capillare diffuso all'interno delle scuole e la riduzione del coefficiente del numero di alunni per classe, con un massimo di 20 studenti che diventano 15 in presenza di persone con disabilità. Poi non è possibile più classe pollaio. Noi della Wille chiediamo da anni un organico diverso, un aumento d'organico, ma consistente. Sono anni che chiediamo questo. Poi la cosa essenziale che abbiamo chiesto come Wille, negli ultimi mesi qua con questa pandemia, abbiamo chiesto un presidio medico per ogni scuola. Grazie. Grazie. Grazie.